Chiude con una bella vittoria la regular season il volle soverato 3 a 0 contro Battistelli San Giovanni Marignano una delle protagoniste è Carlotta Zanotto anche oggi avete disputato un'ottima gara la settima vittoria delle ultime otto partite avete chiuso alla grande questa regular season quindi un buon viatico in vista dei playoff che inizieranno subito martedì Sì questa è la dimostrazione di tutto il lavoro che abbiamo fatto siamo arrivati alla fine del campionato più in forma dell'inizio non abbiamo iniziato molto bene ma l'importante è che ci siamo riprese questo risultato era importante per mantenere il quarto posto e quindi siamo molto contenti Avete affrontato un Coriaceo Battistelli che ha lottato in tutte e tre i sette però voi siete rimasti sempre concentrati avete giocato anche con intensità reattività alla fine il 3 a 0 è arrivato Sì Battistelli è una squadra difficile perché difende molto e mette in difficoltà tutte le squadre si è visto anche che gli ultimi risultati che sono andati a vincere contro Palmi per fortuna siamo rimaste concentrate abbiamo portato a casa il risultato Anche per te un campionato in crescendo come per la squadra partiti con delle difficoltà però anche tu stai dando adesso sono ottime le tue prestazioni in quest'ultimo periodo così come quelle della squadra indice del fatto che è una crescita graduale del gruppo Sì sono contenta infatti non sono partita molto bene ero triste di non poter dare il mio contributo alla squadra adesso si lavora per dar sempre di più e sono contenta di questo Coach Riccardo Marchesi della Battistelli sconfitta qui ha assoverato 3 a 0 però alla fine arriva comunque l'accesso ai playoff questo sicuramente è un risultato un grande traguardo raggiunto dalla sua squadra Sì assolutamente è una società che si è vista proiettare dalla Serie C alla 2 con tutte le promozioni e primo anno che fa la 2 abbiamo fatto un campionato veramente di altissimo livello Ovvio che facciamo molta fatica a competere con grandi squadre però abbiamo detto la nostra in ogni partita Oggi peccato per la gara a prescindere dai festeggiamenti che stiamo facendo per essere entrati nei playoff peccato per la gara perché veramente abbiamo trovato davanti un soverato molto determinato e molto lucido soprattutto Cosa che noi è mancata durante la partita In ogni caso bisogna sempre guardare avanti abbiamo la certezza dei playoff grazie agli altri risultati e a mio avviso molto meritati e devo fare i complimenti veramente a tutto il mio gruppo sia lo staff tecnico medico ma soprattutto al gruppo delle ragazze e dei dirigenti e adesso aspettiamo gli altri risultati per capire contro chi Al di là della sconfitta 3 a 0 però avete comunque lottato contro questo soverato che probabilmente in questo momento è la squadra più in forma del campionato lo testimoniano anche le ultime 7 vittorie nelle ultime 8 gare Sì sicuramente nell'ultima fase del campionato ho visto due squadre che hanno preso molta consapevolezza del proprio potenziale che è soverato la prima e la seconda siamo noi Abbiamo fatto delle partite straordinarie fino adesso e sicuramente oggi il soverato ha dettato legge tra virgolette è una squadra che ha trovato equilibri ottimi Credo che devo fare i complimenti anche a Stefano, Saia perché ha fatto un lavoro veramente straordinario e non è facile giocare contro il soverato in questo momento assolutamente Coach Saia chiude benissimo la regular season il volle soverato con questo 3 a 0 sul Battistelli San Giovanni Marignano quarto posto confermato in attesa adesso di conoscere con i risultati dagli altri campi l'avversario che si sfiderà ai quarti di finale già a partire da martedì Sì direi che abbiamo terminato la prima parte del nostro impegno direi con molta soddisfazione perché è evidente il percorso fatto da queste ragazze in questa stagione soltanto all'inizio di quest'anno i commenti e le percezioni rispetto alla squadra erano di tutt'altro segno adesso c'è tanto entusiasmo, merito del lavoro e della crescita che queste ragazze hanno fatto in questi mesi giocando una partita per volta, lavorando ogni giorno in allenamento con della qualità, alla ricerca della qualità e questi sono i risultati Oggi pure è una bella partita al cospetto di un Coriaceo Battistelli che ha lottato in tutti e tre i set soverato che però è rimasto sempre concentrato, applicato, non si è mai disunito alla fine ha portato a casa l'intera posta in palio Questa è la cosa che mi piace di più perché è su questo che abbiamo lavorato durante questo ultimo periodo rimanere lucidi, cercare le soluzioni adatte, le soluzioni giuste in attacco per riuscire a mettere la palla per terra e devo dire che anche oggi le ragazze sono state molto brave, molto ordinate e hanno sempre cercato il colpo migliore nella situazione e fortunatamente oggi sono andate anche per terra Per chiudere e dare un giudizio globale su questa regular season logicamente non sono mancati momenti di difficoltà soprattutto nella prima parte di stagione ma un soverato che con la forza del gruppo, con il lavoro e con il carattere dimostrato ha saputo reagire, ha disputato direi un grandissimo girone di ritorno lo testimoniano anche i numeri Sì assolutamente, carattere ma devo dire anche tanta tecnica ripeto, uno può avere tutto il carattere che vuole ma poi la palla c'è da metterla per terra e le ragazze sono state molto brave in questo, nel loro percorso di crescita trovando degli equilibri, trovando delle soluzioni alle varie situazioni e difficoltà che abbiamo trovato durante quest'anno quindi devo assolutamente fare i complimenti a loro perché tecnicamente sono cresciute e hanno dimostrato di essere dei grandi giocatori di A2 e adesso cominciamo a divertirci con quello che arriva martedì